A Bellante, 10 minuti da Teramo e Giulianova, a pochi chilometri dall'uscita del casello autostradale, troviamo Di Paolo Arredamenti, il più importante punto di riferimento per l'arredamento in Abruzzo. Un complesso architettonico pensato per garantire lo spazio ideale ad ogni oggetto. Mobili per casa ed ufficio, oggetti d'arte, arredamento per tutti, esposti su tre livelli, ognuno ambientato secondo gli stili ed i gusti più vicini alla clientela. Su 4000 metri quadrati di superficie c'è veramente di tutto, dal classico al moderno, con i marchi più prestigiosi. Appena entrati facciamo la conoscenza con la signora poltrona, pardon, con la poltrona Frau. Sin dagli inizi, e parliamo dei primi anni del nostro secolo, il signor Renzo Frau, un maestro nell'arte del relax, ha pensato al riposo della gente. Come non fidarsi quindi di un marchio che è sempre stato all'avanguardia, un bel biglietto da visita per chi entra nell'esposizione. Ma questo è solo l'inizio. Sul primo piano ecco una vera e propria sinfonia di mobili moderni. B&B, leader nel settore dell'aredamento contemporaneo, le poltrone e i divani busnelli, i letti flu, raffinati ed essenziali, studiati in ogni particolare. Il concetto di funzionalità è insito nel progetto cucina. Ecco le meravigliose cucine che fanno innamorare le donne. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Si va dalla cucina di gran classe a quella dove la funzionalità è legata alla convenienza economica, senza perdere di vista il gusto che da sempre caratterizza Di Paolo Arredamenti. Basta visitare l'esposizione e troverete sicuramente la cucina che fa per voi. Poi si sale al secondo piano. Anche qui non c'è tempo per saziare gli occhi. Da Di Paolo Arredamenti potete acquistare l'armadio a misura. Infatti con il marchio Lema avete la possibilità di scegliere l'armadio secondo quelle che sono le vostre esigenze. Dalla grandezza alla funzionalità, dal colore alle forme. riposare, dormire, amare, sognare. La camera da letto è il luogo dove trascorriamo più di un terzo della nostra vita e Di Paolo Arredamenti dà più valore alla notte con le splendide camere e camerette che vi propone. E poi sempre più su, al terzo piano, il regno del classico, il posto dove ogni idea diventa realtà. Ancora salotti, anche in pelle e soggiorni di grande prestigio. E anche qui, come dappertutto, vale la filosofia commerciale di Di Paolo Arredamenti. Classe, funzionalità, eleganza, senza perdere di vista la convenienza economica. Ma Di Paolo, per offrire un tocco magico, non ha dimenticato l'elemento decisivo delle emozioni, l'illuminazione, proponendo le più rappresentative aziende del settore. Ecco, ad esempio, Tizio, dell'Artemide, un mito che non ha dimensione. E poi i tappeti, persiani, per un arredamento classico, intramontabile, che sfida il trascorrere del tempo. O moderni, missoni, che fanno del colore la loro carta vincente. Di Paolo Arredamenti pensa proprio a tutto. Un'equip qualificata provvede alla progettazione dell'arredamento e a risolvere ogni problema, non solo di spazio, ma anche di funzionalità. La consegna è a domicilio, con personale altamente specializzato. Ve l'assicuriamo, vale proprio la pena di fare un salto abbellante in provincia di Teramo, per visitare Di Paolo Arredamenti. E la domenica pomeriggio, Di Paolo Arredamenti vi offre anche la possibilità di visionare l'esposizione in tutta tranquillità, perché saper usare lo spazio è una questione di intelligenza, di fantasia e di accortezza tecnologica. Tutti requisiti che sono di casa da Di Paolo Arredamenti. E poi, sentite che squadra vincente. Poltrona Frau, B&B, Cappellini, Cinova, Flexform, Busnelli, T70, Mobil Girgi, Lema, Misura M, Poliform, Molteni, Driade, Acerbis, Bernini, Saporiti, Giorgetti, Flu, Riva Cantù, Axil, Carpanelli, Grattarola, Galimberti, FT, Disegno 2, Boffi, Arc Linea, Schiffini, Lube e tanti altri marchi prestigiosi. Di Paolo Arredamenti, bellante in provincia di Teramo, il più importante punto di riferimento per l'arredamento in Abruzzo.